Grazie, volevo dire che ho insegnato l'elementare, in quinta io insegnavo italiano e storia e in quel periodo, fortunatamente, perché io sono vecchio adesso, c'erano dei partigiani che erano vivi ancora, non si trattava solo di fare leggere dei libri, dei testi, e loro ne invitarono in classe, e tanto più che anche quando facemmo la gita andammo a Marzabotto, ci fu il padre, e vennero tutti naturalmente, poi uno disse, mi disse, un genitore, la mia collega, perché eravamo noi, disse, ah le ha portati là, guarda se lei non voleva che sua figlia venisse, poteva andassare a casa, figuriamoci se lei non si sarebbe messa a piangere, che i suoi compagni andavano in cita e lei rimaneva a casa, finito lì, perché allora io, siccome avevo la fortuna in quel periodo, ecco, che c'erano i partigiani, i partigiani che erano ancora vivi, non si trattava solo di raccontare la storia, come la si può raccontare adesso, no? E loro ne invitai uno, e questo naturalmente feceva anche i ragazzi, quindi rimassero tutti molto, vedi che tutto quello che avevo detto è un euro, e poi come dico li portai a farlo, quindi credo che, credo quindi che andammo in gita a Marzabotto a vedere, eccetera, un genitore che disse, ah ma di più guardi, lei se non voleva portare sua figlia, diceva, sta a casa, non è un problema, figuriamoci se lei non si sarebbe messa a piangere, perché i suoi compagni andavano a scuola e venivano, e questa è una cosa che mi è rimasta lì, perché la storia, bisogna conoscerla bene, in quel momento che c'erano ancora quelli di venti, adesso possiamo solo leggere, eccetera, no? Ecco, studiarla, invece loro venivano in classe, era la cosa migliore che si poteva fare, tutto quello che... non so perché a me hanno detto un minuto solo, quindi ne prenderò dieci, allora io sono molto contenta di avere Alessandro e Chiara, ho conosciuto anche la mamma nelle due occasioni che ci sono state anche a Firenze e ho avuto anche la fortuna di incontrare Lorenzo, questo disagio del quale parlava Alessandro lo provo fortissimamente e in quella zona lì, per chi c'è andato, sa cosa vuol dire respirare una situazione di lotta vera, c'è molta verità lì, cosa che non c'è qui, si parlava di parole stuprate e dopo libertà credo che la parola più stuprata sia sinistra, che ha un suono molto diverso pronunciato da altri e per questo ti chiedo Alessandro e la stessa domanda la faccio ad Adelmo che ha fatto un discorso bellissimo, io lo stimo tantissimo ma Adelmo è una persona che ho incontrato a Genova in Piazza Limonda, che lo trovi domani a Lodi, non so dove vai, che è un militante, noi stiamo parlando di Lorenzo, della sua famiglia di Adelmo che sono militanti, capite cosa vuol dire gente che partecipa, che va nelle piazze, che parla con le persone, che si prende delle responsabilità politiche che facciamo fatica a prenderci noi. Allora io mi rivolgo a voi due e rivolgo la stessa domanda, è proprio così vero che dobbiamo andare con tutti per scalzare tutto questo marcio che c'è? Perché quello che è stato fino adesso è una serie di accozzaglie chiamate sinistra e vi ricordo che anche Minniti, dal quale è partito tutto il peggio del peggio della repressione, si definiva di sinistra, anzi era iscritto al partito comunista. Quindi io voglio sapere da voi se è proprio così vero che bisogna andare anche col porco per poter scalzare tutto questo o se dobbiamo riprenderci veramente dal basso, veramente, come dici tu Adelma, nelle piazze che tu frequenti benissimo e cominciare a cacciare via quelli che stuprano la parola sinistra, quelli che si spacciano perché c'è tanto spaccio, ed è proprio per questo che dico che Lorenzo ha trovato quella verità che io, molto meno di lui, ho visto in Kurdistan anche nelle parole, nella scelta delle parole e del linguaggio. Io voglio ricordarvi, lasciando la domanda a loro, che anche qui ci sono donne e uomini militanti che non si limitano a fare la calzetta a crescere le figlie. Non per intervenire, però le cose dette questa sera in questa bella iniziativa sono stimolanti e ho deciso di pulirmi un dente, anzi, altezzosamente dico, sono venuto a darvi una o due informazioni perché davanti a un regime giornalistico dell'informazione indecente e che inaccettabilmente omette e falsifica deliberatamente la realtà, io ritengo di poter dare forse ad alcuni di voi un paio di informazioni in pochi secondi. La prima, con la pseudo-intenzione democratica e positiva di aiutare la pseudo-forza democratica in Siria, Hillary Clinton attraverso il suo mandato ha finanziato per circa quattro anni il jihadismo e l'isis. Qualcuno può pensare che io stia farneticando? Ma non è affatto così, non è affatto così e come dichiarò non molto prima di morire un grande terzo mondista e terzo internazionalista, uno dei teorici intellettuali i più importanti della mondializzazione capitalistica e imperialistica, cioè Samir Amin, morto recentemente un anno e mezzo fa c'era un difetto di fondo e questo difetto di fondo è stato perseguito tragicamente per troppo tempo sia dall'amministrazione, in quel caso erobano, da Hillary Clinton psicoticamente in maniera ossessiva aveva una fissa e una scelta politica, distruggere e abbattere il regime politico di Assad, ricordatelo comunque viene eletto in elezioni, ricordatevi che comunque viene eletto in elezioni, poi ci sarebbe da dire tutto ciò che si può dire, io non ho parentele politiche ma soprattutto io sono per una lotta antiimperialista, sono un antiimperialista e so e voglio denunciare e sottolineare il fatto come fece Samir Amin che il difetto fondamentale era che a partire dagli Stati Uniti e i loro alleati europei all'unisono piegati e proni sono stati da una parte scegliendo di voler abbattere in regime di Sadat ma non lottare in primis contro l'Isis e lo rivalisco, non mi sono sbagliato, hanno finanziato il jihadismo e l'Isis per alcuni anni. Finisco con un'altra informazione, poche sere fa in una bellissima iniziativa qui dove si parlava delle rotte ribelli dell'America Latina, si sono sentite molte importanti informazioni, una fra le quali riferite al Venezuela, vi informo su una cosa, proprio così, a parte che in vent'anni di processo bolivariano della Repubblica Bolivariana del Venezuela, così si chiama, in vent'anni ci sono state 23 prove elettorali 23 prove elettorali con sistemi elettorali ultra verificati, ivi compreso quello del 20 maggio di anno scorso, sembra che in Venezuela non si voti mai, il 20 maggio di anno scorso Nicola Smaduro Moro ha vinto con il 68% delle preferenze con il 46% degli elettori. L'informazione è questa, il commissario ONU, Zelaia, Alfred Zelaia, commissario ONU, mandato a verificare le condizioni della realtà umanitaria che si è sviluppata soprattutto in questo ultimo anno e mezzo, nel suo rapporto ha concluso proponendo il deferimento degli Stati Uniti d'America per crimini contro l'umanità a partire dal 2015 a questa parte. Io non credo che un commissario ONU, verificatelo, sia un banale estremista e terrorista. Per quanto riguarda la parola sinistra, sono d'accordo con te Adelmo, la sinistra è stata questa, della parola sinistra vi è stato un maneggiamento disconnesso. Hai fatto bene dire, comunque ho finito, che fra sinistra e destra c'è una bella differenza, così come c'è differenza fra sinistra e centro-sinistra, ma badate, io sarò testardo e continuo a dirlo. In questo paese c'era una grande sinistra rappresentata dal Partito Comunista Italiano e non c'è, non c'è stata, non c'è e non ci sarà nessuna sinistra che conta veramente senza una forte forza comunista. Grazie Libero per il suo intervento, tanti temi. Due care persone, una sopravvissuta al figlio e l'altra sopravvissuta al padre, il dolore li unisce. Io vi chiederei di approfondire le affinità tra fascismo e ISIS, perché prima ne hai accennato, ma mi intriga molto se potete aggiungere qualcosa di più specifico sulle affinità, per quanto si possa un po' comprendere, però sarei curiosa se voi potete approfondire. Due cose, intanto due cose sul discorso Siria, ISIS eccetera. Sicuramente gli Stati Uniti sono l'imperialismo, il capitalismo eccetera, quindi aspettarsi da loro manovre pulite in territori come la Siria o l'Iraq o l'Iran o la Turchia non è possibile. Penso che in realtà è vero che Hillary Clinton ha sostenuto gruppi giardisti, così come la Turchia ha sostenuto gruppi giardisti. Gli attacco a Afrin che ha fatto per ridurre i territori controllati, governati in cui viveva, in cui prosperava questa rivoluzione kurda, sono stati fatti dall'esercito turco, che non ci dimentichiamo è il secondo esercito della Nato, finanziato con i soldi che gli abbiamo dato noi, Europa, per controllare i migranti e per non far passare nella rotta balcanica i migranti. I governi che l'hanno fatto sono governi di tutti i generi e non c'è quindi una storia di governi di destra e di sinistra e gli è stato passato una serie di miliardi che poi l'esercito Erdogan ha usato per attrezzare il suo esercito e l'esercito turco è il secondo esercito dell'Europa, attrezzato con carammati tedeschi, ricotte italiani eccetera eccetera. Quindi c'è tutto un discorso anche sul commercio delle armi che noi stiamo sostenendo anche come Italia, preoccupati come siamo dei posti di lavoro e non delle questioni etiche sul controllo delle armi. Ecco, l'esercito turco ha attaccato Afrin, dove c'era Lorenzo e se guardate alcuni articoli ha scritto, alcuni pezzetti, è stato veramente una strage, lui è uscito tra gli ultimi, prima che si chiudesse l'accerchiamento sulla città di Afri e all'attacco ci andavano bande filogialiste. Quindi in realtà se l'Isis ha prosperato è stato anche per il sostegno di governi perlomeno inetti e incapaci, che preoccupati per mettere uno contro l'altro e più che preoccupati per governare una buona situazione. Il discorso del parallelismo tra l'Isis e i governi di destra o il fascismo è che ci sono degli aspetti che sono simili, cioè in realtà l'Isis ha dei capi, c'è un discorso molto gerarchico, c'è un discorso di credo con poche discussioni, c'è un discorso ruolo della donna che in realtà in tutti e due gli aspetti mette la donna in secondo piano. Ci sono tanti aspetti che sono similari, la paura del diverso, la rabbia contro il diverso, una certa esaltazione di se stessi come il popolo eletto, pulito, eccetera, è una scarsa considerazione per tutto ciò che è fuori, una divisione tra noi e loro, quindi ci sono molti aspetti similari, poca tolleranza e poca apertura. Veramente poi in ogni caso tutti questi doppi, sia i governi di destra, il fascismo, sia l'Isis, in realtà dove arrivano c'è poco spazio per la diversità, quindi insomma ce ne sono tante, ecco le similitudini, c'è veramente la legge del più forte, c'è il ruolo della donna, tra l'altro il tema d'ora sarebbe lunga, però tutto il discorso della rivoluzione kurda in realtà c'è tutto un aspetto veramente di questa esperienza che potrebbe avere molte cose da insegnare su Ramiria Daccia alla domanda. Allora, dove c'è, noi non abbiamo perso quella che i cui li stanno riscoprendo, il discorso della democrazia, quella che viene chiamata democrazia dal basso, cioè la democrazia dal basso è quella che prima funzionava nei paesi, eccetera, un tentativo di mettere insieme le persone per decidere insieme qual è il destino delle proprie comunità, non è così semplice da gestire, ma i culti lo stanno facendo, ogni piccolo, ci vivono 5 milioni e mezzo di persone, non 300 mila o 10, vabbè, vuol dire ricominciare dal basso a mettere a confronto le persone e a farle parlare, da queste ogni comunità prende delle decisioni e mette su dei gruppi di lavoro, delle commissioni, eccetera, che affrontano poi i problemi di volta in volta, con dei responsabili che eseguono i mandati della comunità e poi possono essere sostituiti qualora non portino avanti il mandato della comunità. I responsabili sono uomini e donne, anzi c'è sempre un uomo e una donna a gestire la corsa, in ogni villaggio c'è una cassa delle donne e si occupa del bisogno delle donne, c'è tutta una filosofia che sta venendo fuori proprio sul ruolo della donna, sulla gestione della donna, della femminilità. L'economia, anche se non è totalmente in questo modo, è un'economia condivisa e parte dai villaggi per il benessere dei villaggi, non è la preoccupazione del capitalistico di accumulare e della crescita del PIL, ma è il fatto che tutti quelli che vivono e collaborano in queste cose abbiano lo stesso uso. Cosa ci serve a noi, cosa ce ne frega a noi di questa esperienza? Io credo che ce ne frega perché dobbiamo ricominciare a parlare e a confrontarsi tra le persone che vivono in certi posti. Penso che però ci devono essere delle linee guida che non ci devono far perdere il filo. Io credo che con i fascisti non si può parlare e non si debba parlare. Credo però che con le persone poi a un certo momento bisogna poi porre delle scelte molto nette. Quindi io ci parlo, mi confronto eccetera eccetera, però non ci dimentichiamo che le nostre linee guida sono i benessere della comunità, sono la promozione di tutti, sono eccetera e su certi principi non si può molto derogare. Credo che sia un punto un pochino. Poi detto questo come ce ne facciamo? La sinistra, vabbè è tardi, la sinistra ha perso questo perché ha ricominciato a un ruolo verticistico, capipopole e tutte queste cose. Bisogna riscoprire la sezione di paese, bisogna riscoprire la dimificazione del quartiere, nel territorio, nel mezzo alla gente. Sono d'accordo perfettamente. Ormai abbiamo detto tanto, sposo completamente le tue posizioni che più o meno sono anche le mie posizioni. Sul discorso della sinistra è un discorso abbastanza intrigato, un discorso della sinistra, spesso volentieri ce la ripetiamo e quindi rispondo alcune cose che mi rispondo anche a me da tanto tempo. Non c'è nessuna confusione da fare se noi siamo capaci di fare qualcosa di diverso. La confusione la stiamo facendo perché non siamo capaci di fare qualcosa di diverso perché noi non siamo capaci di far passare un discorso, di dire che il PD e altre forze sono forze di centro-sinistra, noi crediamo che ci sia una sinistra seria che possa portare avanti le battaglie in cui noi crediamo. Quindi questa è una delle grosse posizioni che ci sono, che ci sia bisogno di comunisti, comunisti sono sempre stati all'avanguardia in qualsiasi posto, ma c'è bisogno anche di fare in modo che ci sia una forza che abbia le gambe per camminare e quindi non è che sia. Noi diciamo per fare una nuova sinistra ci vuole un partito comunista forte e cose del genere, un partito comunista forte ce l'avevamo è finita come è finita, qualcuno l'ha voluto copiare è finita ancora peggio e allora vuol dire che c'è qualcosa che non quadra e bisogna anche noi. Io sono stato in Unione Sovietica convinto di andare nel paese dei miei sogni, invece mi sono trovato che mi hanno rispedito a casa e allora non parlo, parlo dell'Unione Sovietica non della Russia e allora vuol dire che c'è qualcosa che non quadra e devo dire che ho militato in un partito comunista per una vita intera e mi sono scontrato e arrabbiato quasi come mi sto arrabbiando oggi e allora vuol dire che non è una questione di avere Tizio Caio Sempronio ma bisogna che noi non facciamo grandi dichiarazioni ma riusciamo a vedere che c'è bisogno tutti quanti di portare. L'ho detto, lo ripeto, il nostro compito non è quello di andare a dire a chi vota da una parte che sta votando male perché poi dopo va a finire che anche noi spesso volentieri non è che abbiamo fatto grandi cose e allora sarà meglio che ci rivolgiamo a quelli che ci possono dare una mano, a quelli che non si sono distaccati, a quelli che non vanno a votare perché è lì che noi dobbiamo cercare di portare qualcosa. Quella grande parte, in tanti che non vanno a votare, che non partecipano più alla vita politica, la maggioranza sono di sinistra, sono lavoratori, sono problemi che hanno grossi problemi, più grandi anche dei nostri e allora è con questi che noi dobbiamo confrontarci, ci dobbiamo confrontare in Europa e ci vogliamo portare dappertutto perché ci sia la possibilità. Io non credo che ci possa risolvere il problema puntando a costruire una forza rivoluzionaria che cambierà. Io l'ho detto prima, la Costituzione sarebbe già una grossa rivoluzione, non è più possibile pensare che noi dobbiamo riprendere le armi di qua e di là, dove ci sono le armi, ne stiamo parlando stasera, abbiamo dei caduti, abbiamo dei morti e sono stanco di piangere i nostri morti, ma sono stanco di pensare che poi dopo alla fine non riusciamo a far quadrare quello che dobbiamo portare avanti. E allora non sta a noi dire chi ci sta o chi non ci sta, noi sta a portare avanti i nostri valori, noi dobbiamo dire quali sono i nostri valori, non ci interessano i valori di Tizio Caio Sempronio, quando noi avremo una forza che potremmo dire che qualcosa riusciamo a fare, ci potremmo anche parlare, ma noi spesso volentieri in tutto questo periodo non siamo capaci solo di parlare male degli altri, di dire che a noi va male perché gli altri ci trattano male, perché hanno in mano questo e in mano quest'altro e non dire che invece noi siamo stati anche una forza grande, prima con il Partito Comunista, con rifondazione, eravamo arrivati come sinistra, quelle che stiamo quasi spariti e dobbiamo riprenderci, eravamo arrivati a un 10%, ce lo siamo mangiato, ce lo siamo mangiato e non solo perché il capo, perché Bertinotti è il risultato che poi dopo era quello che io dicevo ancora prima che lui esistesse, ma non solo per questo, perché c'è stato un discordo, perché quando abbiamo tentato di fare qualcosa di unitario, molti compagni, e parlo anche soprattutto di rifondazione e cose del genere, per dire che dobbiamo cercare di capire e di muoverci su cose importanti che abbiamo, hanno perso il loro simbolo, hanno perso questo qua, errore che è stato commesso e è risultato che in quel momento una buona parte di rifondazione ne aveva votato la Lega, perché in quel momento la Lega sembrava il futuro rivoluzionario del nostro paese, come quelli che poi dopo hanno votato le 5 stelle, Tizio Caio di Sempronio, perché pensavano, non c'è niente da pensare, c'è pensare che a sinistra c'è da lavorare, da creare qualcosa e di tenere pronto questo. Quindi questo sarebbe quello che noi potremmo portare avanti e potremmo dare, non stai tanto lì a discutere e a litigare, ma stare vicino ai problemi, discutere su quello che c'è, far partecipare la gente, far capire che la partecipazione che ci può dare, non ognuno si ritira nel suo orticello, che non serve a nessuno, la partecipazione e le battaglie. Quante volte mi sono incontrato con dei compagni che dicono, ma porca miseria, non posso. Devo dire che stasera sono abbastanza soddisfatto perché c'è stata una buona partecipazione, quindi ripetiamo e continuiamo a batterci, perché vuol dire che la possibilità ci sono, ma ci sono trovate in certi posti in cui c'è un mezzo deserto e mi si è sentito dire quando dico, insomma non è che sono tanto contento se siamo tutti qua. Abbiamo fatto una campagna in cui arriviamo in una città a Padova di 150 mila abitanti, eravamo 30-40, dico se questi sono quelli che ci votano promanderà a Cacli e Beleterdi. Spero che questi siano quelli che ci daranno da fare da domani e dopo domani per batterci, per fare in modo di far capire quelle che sono le nostre posizioni politiche e quello che noi dovremmo fare. E quanti mi hanno detto a me che sto portando, come forse qualcuno pensa ancora, che sto portando un discorso negativo perché non creo quell'entusiasmo, l'entusiasmo lo creiamo quando siamo capaci di fare le cose, perché creare l'entusiasmo non c'è un cazzo che porta avanti le cose, non è che ci dobbiamo dire la verità, non dobbiamo fare il comizio, l'ho detto mille volte, ci dobbiamo dire in faccia che cos'è che dobbiamo fare, capire, rivolgersi ai giovani, dire ai giovani che senza di loro non riusciremo a fare niente. Rivolgersi alla scuola, ho sentito prima dire qua, alla scuola, io ho girato molte scuole, ho girato molte, dalle medie arrivare ai superiori, mi sono anche sentito quando gli chiedevo, il 25 aprile è stata una giornata, una grande giornata di festa, sapete dirmi qualcosa? Qualcuno dice sì è una grande giornata di festa perché è il patrono del mio paese, non sapevano manca che cos'era, erano in quinta liceo e mi sono sentito la professoressa rispondermi, sa non abbiamo ancora fatto quel periodo storico, 18-19 anni, cosa aspetti che abbiano i miei 76 anni per fargli capire quello che devono fare e cosa devono partecipare? E allora queste sono le cose, non ti può pensare in una scuola che arrivano a fare la storia fatta in fretta perché a marzo ancora non l'hanno fatta, poi ci sono gli esami, non si può parlare di quello che è stata tutta questa grande battaglia che ci ha portato un po' di democrazia gli ultimi 15 giorni che un ragazzo va a scuola, ma non solo nella scuola, anche i genitori, anche noi non teniamo i nostri figli sul fatto che si hanno fatto i compiti, sono cavoli della scuola se hanno fatto i compiti e quello che devono fare a scuola, dobbiamo dirgli ai ragazzi quello che si devono fare oggi, quello che insieme dobbiamo portare avanti per creare un mondo di giustizia e un po' di lealtà e un po' di democrazia feria in questo paese, hanno abbastanza, invece noi siamo sempre, dobbiamo fare i professori, continuamente dobbiamo fare i professori, ognuno che interviene ha sempre il professore perché ha da insegnare, cosa abbiamo da insegnare se non abbiamo la gente che sta con noi e allora questo sarebbe il grosso problema, quindi non ti parlo, dovete fare quella cosa, c'è ancora tanto da fare, abbiamo bisogno di una sinistra seria e quindi ci dobbiamo portare avanti, dare le battaglie, andare a scoprire quelle che sono le cose che si possono avvicinare alla gente e stare insieme con la gente, cercare di non fare tanti orticelli ma di fare una battaglia, c'è bisogno di comunisti, c'è bisogno di chiunque, non dico che dobbiamo fare il partito unico che non mi è mai piaciuto, dobbiamo sapere che quando è il momento di decidere, dobbiamo sapere chi sono i nostri amici e i nostri nemici, questo è il punto principale che noi dobbiamo fare, basta perché sono i nostri amici.